Questo programma è offerto da Deccano Campus Martedì 30 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana Rassegna Stampa come ogni mattina offerta da Deccano Campus E anche oggi vediamo che su tutti i quotidiani nazionali tante sono le informazioni a partire dall'ultimo caso che ha segnato una violenza profonda nei confronti di una donna e una spaccatura all'interno del governo visto che comunque riguarda una violenza perpetrata da due membri di Casa Pound insomma una vergogna senza fine, soprattutto un non rispetto per la vita per l'altrui vita e soprattutto per quello che è il benessere e la vita stessa della donna ma cominciamo subito a vedere i fatti in primo piano questa mattina partiamo dal Corriere della Sera e vediamo che in apertura c'è proprio questa notizia donna violentata, bufera politica su Casa Pound Viterbo arrestati due esponenti del gruppo le indagini Salvini, castrazione chimica e Di Maio questo è un errore insomma la verità è che si parla di due giovanissimi anche in questo caso 19 e 21 anni ancora una volta sembra proprio che i più giovani ancora non abbiano inteso che la vita è tutta un'altra cosa e sembra sempre più strano rendersi conto che i giovani molto spesso hanno qualcosa di veramente infinitamente piccolo e ancora vediamo l'hanno fatto ubriacare e poi violentata vittima a Viterbo una donna di 36 anni gli aggressori due esponenti di Casa Pound arrestati Salvini, castrazione chimica replica prontamente Di Maio è un errore il leader leghista usa la paura delle donne dice la ministra Trenta insomma questo è quello che appare nella giornata di oggi ma lo vedremo piano piano nel corso di questa rassegna stampa anche perché porsi dal lato di chi comunque vuol far valere una nuova norma quella appunto sulla castrazione chimica servendosi di queste situazioni che si verificano ogni giorno sembra proprio qualcosa di infimo e ancora più basso insomma la realtà è che si deve trovare una soluzione farlo in tempi brevi ma soprattutto vedere che cosa è più appropriato per la tutela appunto di chi risulta essere appunto vittima purtroppo di chi si fa violentatore e ancora vediamo quei silenzi colpevoli sorridono in una foto di gruppo del 25 apri ragazzi dell'Old Man Stavis pelati e palestrati maglie nere con la tartaruga di Casa Pound spavaldi pronti a tutto perché ancora la vita era solo caccia ai rossi e cinghia mattanza insomma l'uso contendente della cintura violenta appunto volante nera nelle valli dei Monti Cimini e Paralene in oppone in onore di Pietro Callistri il pilota del Duce tosta come un pezzo degli Z Zero Alfa un delirio ora diventato anche altro insomma quella violenza che viene manifestata nel quotidiano e sembra essere l'unica capacità di cui sono padroni ancora vediamo nelle altre notizie in prima pagina ancora una volta la violenza e terrorismo Lemiro Adi al-Baghdadi cosa svela il video? vediamo in questa immagine eccolo qua il capo dell'ISIS che ricompare dopo cinque anni Lemiro Abu al-Baghdadi il capo dell'ISIS è infatti ricomparso cinque anni dopo il sermone nella grande moschea di Mosul il leader dello Stato Islamico appare in un video di 18 minuti diffuso dall'organo di propaganda dell'ISIS attaccate la Francia e i suoi alleati in Africa questo è il diktat e ancora continuiamo a vedere sempre questa prima pagina nella parte destra vediamo nell'articolo di Cazzullo Pedro Sanchez l'eccezione per l'Europa le elezioni spagnole questa l'eccezione iberica abbiamo un messaggio per il mondo sconfingere la reazione è possibile ora faremo un governo pro-Europa dalle elezioni del 28 aprile resterà questa frase di Pedro Sanchez che enfatica com'è nel carattere di questo popolo a noi fratello e intanto le quattro crisi senza una fine verso il primo maggio è l'ennesima crisi del lavoro infatti oggi l'Istat dirà se anche il primo trimestre 2019 ha fatto registrare crescita a zero l'anno è in corso non promette niente di buono per la nostra industria le vecchie crisi mai risolte e Antonio Merioni Alcoa ex Fiat di Termini Merese Piaggio Aerospace e intanto nella parte bassa della pagina parla Barbara Palombelli figlie adottate la vera storia infatti Barbara Palombelli racconta nel libro Mai fermarsi la storia di Serena e Monica le figlie adottate col marito Francesco Rutelli le tenevamo con noi in segreto le ho salvate da un padre violento Serena adesso ha 29 anni e partecipa al grande fratello insomma anche questo è un argomento troppo spesso passato sott'occhio di cui non si discute non se ne parla anche perché purtroppo le famiglie sono sempre in difficoltà ma non in difficoltà perché sotto attacco sotto assedio da chissà quale altro organismo ma semplicemente perché l'elemento portante della nostra società troppo spesso è sottovalutato da chi comunque una famiglia già ce l'ha e parlare di adozioni oggi è sempre più complicato anche perché ancora nel 2019 risulta essere complicato adottare ma ricordiamo che è qualcosa di estremamente bello per chi adotta e per chi viene adottato comunque è amore che circola è amore che viene ricambiato ma soprattutto è l'amore infinito che deve essere così gestito in maniera semplice pulita e sempre all'ordine del giorno se fosse tutto così forse non si parlerebbe di adozioni ma si parlerebbe esclusivamente di vita che fluisce anche perché chi dice che comunque un genitore è colui che mette al mondo ecco questa è la realtà questo è quello che ci presenta oggi Corriere della Sera ma continuiamo a vedere ancora le interviste vediamo ritorniamo sulla parte politica dell'Italia il governatore Zaia senza l'autonomia salta il contratto con i 5 Stelle infatti se i 5 Stelle continuano a schierarsi contro il provvedimento sull'autonomia è un tradimento del voto popolare dice a Corriere il governatore del Veneto Luca Zaia quella riforma l'hanno voluta i cittadini con un referendum continua quindi se uccidono la riforma salta il contratto di governo ed ancora nella parte bassa della pagina si parla del generale Iroso matricola 212 della disciolta brigata Cadore ci ha lasciati ieri aveva 120 anni ma per quelli come lui un anno ne vale tre era quasi cieco acciaccato dal logorio di un'esistenza generosa alpino di antica tempra sempre in prima fila quando si trattava di inerpicarsi sui sentieri di montagna per portare a termine una missione in cui fossero richieste la sua pazienza la sua disciplina e diciamolo pure la sua cocciutaggine aveva patito la pensione come un affronto si era visto sorpassare da forze più fresche ma non necessariamente più affidabili lo avevano consolato l'affetto dei commilitoni che continuavano a invitarlo ogni ricorrenza a quello di Gignola la sua compagna a cui aveva delegato le redini della gestione familiare persino per strada la seguiva come un'ombra il generale Rosso aveva bagnato la sua morte con due giorni ininterrotte di lacrime per consolarlo già in tardetà gli amici gli avevano presentato una creatura giovane ed esotica fin dal nome Winnie e lui come spesso accade se ne era scandalosamente innamorato alla sua maniera paziente e cocciuta infatti da ieri Winnie è rimasta sola ma non da sola rimpiangelo tutti gli alpini sono il lutto e il lutto il Veneto a cominciare dal presidente Zaya che gli ha dedicato un posto struggente insomma questo è ovviamente quello che lascia il segno quando le persone compiono delle azioni o comunque si fanno voler bene scegliere proprio per il loro modo di essere il loro modo di fare e rimangono nel tempo ci auguriamo che questo sia per ciascuno di noi ci auguriamo di lasciare sempre il segno ma di farlo in maniera positiva questo vi auguro questo mi auguro e questo auguro a tutto il mondo affinché si possa davvero vivere serenamente ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo dal fatto quotidiano partiamo dall'alto al TGR dell'Emilia Romagna servizio encomiastico sulle celebrazioni per Benito Mussolini a Predappio la di Salini si dissocia e cacciare il direttore della TGR questo è quello che si pone la testata questa mattina ed ancora vediamo nell'apertura di pagina parlatria il ministro dell'economia al fatto tagli o sale l'iva Draghi in Italia può fare grandi cose non mi piace quando mi attaccano ma ormai non ci faccio più caso l'uscita sul balcone e il deficit al 2,4% furono errori e intanto si continua a discutere su Sirica l'intercettazione ma se la tiene oggi Conte parla con Salvini e nella parte centrale della pagina per le festività eccoci qua aula deserta per la discussione sulla riduzione del numero dei parlamentari la Camera riduce gli onorevoli ma senza onorevoli 15 presenti con il ponte del primo maggio infatti sono in pochi ad assistere al dibattito su una riforma costituzionale giudicata importante dai partiti della maggioranza e intanto la domanda che si pone oggi il fatto quotidiano è lavoratore a chi il primo maggio dei rider l'esercito di chi non si ferma e ancora tanta polemica su questi lavoratori tanta polemica ancora per quanto ancora non è stato fatto ma soprattutto polemica per chi lavora e ancora pochi diritti ha dalla sua parte e ancora candidato De Mita io dovevo morire 87 anni il nuovo si schianta e ancora nel Viterbese due di Casa Pound arrestati per stupro di gruppo su una donna e nella parte bassa della pagina andiamo a vedere altre notizie in primo piano note al calcio libero che poteva perdere dall'Olanda anni 70 a Van Nistelrooy senza Champions e questo è il contropiede del calcio moderno che nasce con la grande Olanda e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ci spostiamo sul quotidiano libero tutti in fila per il condono siamo evasori altro che poveri le domande per la pace fiscale infatti superano quelle per il reddito di cittadinanza con il nostro erario però spesso chi ha guai tributari è più onesto di chi chiede il sussidio e Salvini prorogare la sanatoria intanto si parla di voto senza passione le elezioni dell'Unione Europea infatti interessano gli addetti ai lavori ma solo loro a quanto pare e intanto nella parte centrale della pagina vediamo un'immagine che è abbastanza eloquente eccoci qua alla deserta quando si dibatte sulla riduzione dei seggi si tagliano le poltrone e i deputati a quanto pare sono in fuga e intanto il convegno a Palermo grillo tra quelli che credono la terra sia piatta e nella parte bassa della pagina ecco qua vediamo delle notizie di salute che riguardano appunto una novità e sembra essere davvero preventivo l'olio d'oliva che a quanto pare previene i tumori dell'intestino è un rimedio semplice molto efficace un cucchiaio al giorno di olio extravergine di oliva aiuta infatti a prevenire e combattere i tumori intestinali secondo la scienza e intanto la benevolenza del cretino peggio dell'odio del nemico Isotta svela parte del suo carattere e ancora continuiamo a vedere le altre notizie sulle altre testate nazionali ci spostiamo adesso sulla verità andiamo a vedere proprio che cosa racconta in questa giornata quale verità soprattutto mette in luce il giornale Vaticano in esilio dopo 90 anni e infatti guardate il titolo il Papa sfratta l'osservatore romano Bergoglio non si ferma più la storica testata che ha da poco cambiato direttore cambia pure la sede oggi sarà comunicato ai dipendenti il clamoroso trasferimento fuori dalle sacre mura e ancora vediamo nella parte centrale scorta di mezzata Matteo Renzi dopo il viaggio in Arabia Saudita e intanto il terrorismo islamico ha fatto 146.811 morti mentre rispunte in un video al Baghdadi il Wet Hamson Tag fa i conti sulle stragi oltre 30.000 in 18 anni e per il tema a volte ritornano il giglio magico combatte per riprendersi Firenze con le banche e nella parte bassa della pagina eccoci qua il patron della maratona di Lucca sfida i finti antirazzisti un'altra corsa rifiuta gli sfruttati Dem in rivolta e insomma veramente una polemica senza fine proprio per questa corsa che comunque aveva escluso parte della popolazione mondiale adesso ancora si fanno polemiche proprio su una situazione che parla appunto di sfruttamento all'ennesima potenza e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso sul Repubblica e andiamo a vedere come presenta questa giornata quella la giornata di domani ed eccolo qua chiamiamolo chiamalo primo maggio e infatti vediamo nella parte alta della pagina la Costituzione della Repubblica Italiana articolo 1 che recita così l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro questo è alla base della nostra Costituzione ci domandiamo se oggi sia effettivamente così e quindi se tutto vale la pena e soprattutto se l'aspetto di questo articolo ripercorre ancora la nostra storia la nostra è una Repubblica sicuramente democratica ci poniamo a questo interrogativo e soprattutto è fondata sul lavoro abbiamo tutti la possibilità di avere un lavoro che ci soddisfi che ci retribuisca e ci permetta di condurre una vita non dico agiata ma almeno ovviamente dignitosa e soprattutto degna di essere ritenuta tale ancora vediamo nella parte di questa alta di questa pagina altro che festa del lavoro un giovane su tre non ha un posto in dieci anni raddoppiati i sottoccupati il 25% ha un impiego inferiore al titolo di studio perso in totale un milione di posti a tempo pieno peggio di noi pensate un po' solo la Grecia i roboni i prossimi 20 anni copriranno il 15% della manodopera e insomma è quello che viene raccontato da questa pagina è proprio un aspetto di quelli più brutti irreali e soprattutto è quello che viene definito un valore fatto a pezzi oggi il lavoro domani i robot i robot che cosa faranno semplicemente ci aiuteranno probabilmente no probabilmente continueranno a sottrarre altro lavoro un tempo dovevano essere considerati d'ausilio l'aiuto appunto a noi esseri umani ma a quanto pare man mano che si va avanti la tecnologia non solo ci aiuta ma molto spesso facciamo in modo che ci sostituisca insomma prestiamo attenzione cerchiamo il vero equilibrio che è quello che ci dovrebbe rendere tutto più agevole ancora la vergogna di quell'aula vuota di cui abbiamo già parlato in precedenza intanto vediamo nella parte bassa della pagina la lega avanza in Sicilia ancora giù i 5 stelle e intanto anche da qui vieni a divertirti stuprata per ore da due militanti di casa Pound ed infine l'inchiesta i capitani coraggiosi delle edicole ancora una volta si parla proprio di un argomento che sembra essere sempre più attuale adesso vi lascio però a qualche momento di pubblicità non andate via perché ritorniamo subito dopo e continuiamo la nostra rassegna stampa e abbiamo ancora tante informazioni di cui parlare il nostro canale di cui parlare Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ancora una volta in studio, è sempre il 30 aprile, martedì 30 aprile, continuiamo a vedere l'informazione in primo piano sulle testate nazionali. Questa volta ci spostiamo sul quotidiano Il Messaggero e andiamo a vedere proprio delle notizie che ancora una volta ci lasciano perplessi. Cervete ritradita dalle cuffiette, cronaca in primo piano infatti, travolta uccisa dal treno, stava ascoltando musica. Troppo spesso, ecco, ancora una volta gli strumenti che ci isolano dal mondo, le cuffiette vanno benissimo, l'importante è avere un volume adeguato per consentirci comunque di riuscire a percepire quello che succede intorno, perché altrimenti situazioni del genere diventano sempre più frequenti. E intanto vediamo in apertura di pagina uno stupro, scuote il governo, Viterbo, due militanti di Casa Pound arrestati, uno è consigliere comunale, la vittima ha 36 anni e sono arrivate le minacce direttamente. Taci, tanto nessuno ti crederà. E Salvini pronto con la castrazione chimica, mentre Di Maio presa in giro. E ancora una volta si parla appunto di questa violenza, di questa minaccia che è stata fatta a questa donna. Non parlare perché tanto nessuno ti crederà. E purtroppo anche questa è una realtà sempre più indiscussa. Le donne parlano, le donne denunciano, ma quando accade sembra che sia difficile credere loro. E infatti lo abbiamo visto in tanti casi ultimamente, ma questa volta le prove sono schiaccianti, anche perché erano in possesso direttamente di chi è stato accusato di questa violenza. Ma ancora continuiamo a vedere le altre notizie. In primo piano, tuscia violenta, d'aspo dopo esteggio, la strana carriera del nero Chiricozzi. E intanto oggi il CDM serve un metodo condiviso. Roma scontro sulla nomina del prefetto, alto là dei 5 stelle alla scelta del Viminale. E per quanto riguarda il voto in Sicilia, crollano i grillini, non sfonda la Lega, il prezzo delle liti sembra essere proprio questo. E nell'editoriale Lettori Alleanze, crescente Scricchiolio, nel pianeta giallo-verde. Ancora una volta vediamo proprio sulle testate nazionali questo continuo dissidio, questo continuo scontro che c'è all'interno del governo, ma che comunque continua a trascinarlo ancora in avanti. E intanto nella parte centrale della pagina, il capo Isis è sparito da 5 anni, attaccheremo Parigi in Africa. E infatti Al-Baghdadi torna in video e minaccia. E ancora ci spostiamo sull'economia caso risparmiatore, il decreto crescita è ancora bloccato. A sette giorni dall'ultimo ok, il controverso testo che contiene anche il Salva Roma, fermo al tesoro. E intanto il piano di Bonisoli, vandali dell'arte, per loro carceri e anche carcere, anche multe. E infine nella parte bassa della pagina, appello con 7500 firme, cattedre di italiano, tagliate in Francia, Macron si fermi. Insomma, l'italiano sembra essere una lingua non fatta per la Francia, chi lo sa lo vedremo. E soprattutto vedremo se questa iniziativa delle firme potrà essere d'aiuto. Ancora ci spostiamo su un'altra testata nazionale, questa volta andiamo a vedere la prima pagina del mattino, partiamo dall'alto, dove vediamo che c'è un fenomeno che è quello delle piccole scosse, Campi Fregrei e Vesuvia, Mars Record. E intanto la stagione si continua ancora per quanto riguarda gli spettacoli, dal San Carlo alla Scala per il Festival di Ravello, una vera e propria estate italiana. Tutto pronto, ieri è stata presentata appunto questa edizione. Ancora libri e società, il corpo e il suo nutrimento, la dieta irrompe nei romanzi. Ormai sembra essere proprio questo il diktat dei giorni nostri, la perfezione, quella perfezione che passa attraverso il corpo, il corpo che sempre più non viene considerato un tempio, ma semplicemente qualcosa da mettere in mossa e soprattutto da farlo nella maniera meno indicata. Le diete vanno benissimo, ma solo nel caso in cui rappresentino un vero e proprio equilibrio. Quando invece sbilanciano il corpo da una parte o dall'altra, comunque ovviamente tutto viene male. Ricordiamo sempre che l'equilibrio sta nel mezzo e soprattutto nell'educazione. L'educazione alimentare, l'educazione alla vita, l'educazione all'essere. Sempre i migliori nella salute, perché ovviamente questo è quello che ci contraddistingue nella nostra esistenza. Ma ancora continuiamo a vedere la prima pagina del mattino. Voto Sicilia, flopo movimento 5 Stelle e governo paga le liti. 5 Stelle perdono i comuni dove hanno governato e la Lega da sola intanto non sfonda. E vediamo che si parla di segnali di implosione nel pianeta giallo-verde, mentre un leader per la sinistra, la lezione che arriva dalla Spagna. E intanto nella parte centrale della pagina, guardate questa notizia che ci lascerà tutti quanti sconcertati. La maestra non mi piace, ha 10 anni, tenta di uccidersi. E' questo il dramma che è accaduto ieri a Battipaglia. Il bambino si è lanciato da un terrazzo della casa. La motivazione è scritta in un biglietto. L'insegnante sotto shock dice che è un bravo allievo. Infatti è tornato a casa con la scusa di un quaderno da riprendere, poi si è lasciato cadere nel vuoto. Ora il piccolo di 10 anni di Battipaglia è ricoverato in gravi condizioni in un biglietto. Ritrovato dai carabinieri si parla del suo disagio a scuola. Sotto shock l'insegnante è uno dei più bravi. E intanto vediamo nella parte destra della pagina il commento quei lividi sul corpo e i segni più profondi che la scuola non vede. Povero bimbo, povera maestra, povera madre. La notizia del bambino di 10 anni volato dal balcone di casa dopo aver scritto un terribile biglietto lascia senza fiato e senza parole. E lascia soprattutto con tanti interrogativi tutti coloro che entrano e sono entrati nella vita di questo ragazzino. Qual era il suo disagio? Che cosa ha determinato un gesto tanto violento soprattutto per se stesso? Ma adesso le ripercussioni si vedranno poco alla volta. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Nella parte centrale vediamo una fotonotizia. Da Viterbo arrestati due militanti, uno è in consiglio comunale, gli stupratori di Casa Pound e scontro sulla castrazione. E ancora un caso a Napoli. Il reddito ai lavoratori in nero, la denuncia dei caffi, i buchi neri del sussidio accolte 50.000 domande ma i controlli scatteranno solo dopo i pagamenti. Anche di questo argomento tratteremo dopo. Vediamo la misura a segno anche a 60.000 immigrati ma le verifiche al via in autunno. E intanto vediamo nella parte bassa della pagina. Ancora eccoci qua dibattito. D'Angelo non c'è più la mia curva B. La maglia azzurra e i cori ingrati. La città ritrovi l'amore. Infatti la maglia azzurra di Caneglion che i tifosi rilanciano in campo, i cori ingrati contro gli azzurri. Per Nino D'Angelo sono il sintomo di una tifoseria cambiata. Non c'è più la mia curva B, dice Corramarico. E aggiunge l'autore di quel gesto non è un tifoso, è semplicemente un pazzo. E' questo che viene raccontato appunto questa mattina su questo quotidiano dopo che la maglietta di Caneglion è stata rifiutata dagli stessi tifosi dopo una partita che alla fine ha portato alla vittoria della squadra appunto partenopea. Insomma sembra davvero che si stia rasentando la follia e sembra proprio che ci siano veramente motivi per esultare da un lato ma dall'altro lato ci sono motivi appunto per poter parlare per ore proprio di questi argomenti che sembrano dipingere una tifoseria che non si sa che cosa voglia. E ancora vediamo il manifesto. Questa mattina Salvini non sfonda ma le 5 stelle. Si parla ancora una volta di comunali in Sicilia e intanto Conte e Ibi c'è forse oggi confronto Siri verso l'autosospensione e vediamo come apre questo quotidiano. Eccoci qua, ricomincio da me. E voilà, eccoci qua. In Spagna il PSOE lontano dalla maggioranza assoluta proverà a ballare da solo con un governo monocolore con appoggio esterno. Podemos infatti penalizzato dal voto tende la mano. Ciudadanos rifiuta possibili alleanze e gli indipendentisti peseranno ancora. Rai Spload dei Catalani di ERC. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Viterbo stupro di gruppo arresti in casa Pound e dalla Spagna progressista e rebus del governo. E anche qui TGR Emilia Romagna fascisti a predapio e bufera sul Rai. Ed infine la polemica. Una sinistra finalmente spensierata viene raccontata dalle pagine appunto del manifesto. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali. Ci spostiamo adesso sulla parte economica. Andiamo a vedere il sole 24 ore in questa giornata che cosa ci racconta. E ci parla di frodiva. Task force a caccia di 36 miliardi. E intanto continuiamo a vedere ancora questa prima pagina. Sono sblocca cantieri in panne, commissari già in ritardo. E per quanto riguarda le fiere Parigi, sfida Bologna sulle macchine agricole. Vediamo una foto in questa immagine. Ancora tesoro, 6 miliardi e mezzo di BTP da piazzare. Intanto 7 milioni e mezzo. Petrolio. L'Iraq ha avviato a diventare il quarto produttore mondiale. Per l'Alitalia, nessuna offerta a Ferrovia dello Stato. La mini proroga, a quanto pare, non basta. E cambiamo proprio argomento. Ci spostiamo sul Corriere dello Sport. E vediamo il sorpasso di Gasp. Corsa Champions. L'Atalanta batte l'Udinese con Derun e Pasalic. E torna al quarto posto. Scavalcata alla Roma. Domenica la sfida di Ainzaghi. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina. Inter su Kenna. Marotta incontra Raiola e avvisa la Juve. Intanto tra Dani e Allegri accuse senza fine. Dopo la rissa in tv, durissima risposta del commentatore di Sky. Alle invettive del tecnico è stato maleducato, scortese e anche arrogante. E ancora continuiamo sempre a vedere le pagine sportive. Questa volta su Tutto Sport vediamo Dea. Così va in Champions. Derun su rigore e Pasalic piegano. L'Udinese nel finale. L'Atalanta scavalca la Roma e sale al quarto posto. Gasperini, la fiducia cresce. Adesso ci crediamo e domenica lo scontro diretto con la Lazio. Intanto un'intervista esclusiva. Agnelli ti do io un doble. E clamorosa rivelazione di Aulas, presidente del Lione. Andrea è eccezionale a parità di offerte. Il mio asso va alla Juve. E intanto vediamo nella parte destra della pagina. Eurotoro e Belotti per sempre. Nuovo contratto per il capitano. Un progetto ambizioso a lungo termine. Cairo rilancia. E venerdì Grand Derby. E anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto. Ma la rassegna stampa non finisce qui. Vi lascio solamente a qualche momento di pubblicità. Ritorniamo subito dopo. E ancora, ancora una volta, l'informazione in primo piano è tantissima e soprattutto vasta. Ci vediamo subito dopo. E andiamo ad esaminare tutto ciò che riguarda la Regione Campania. E andiamo ad esaminare tutto ciò che riguarda la Regione Campania. E andiamo a tutti. E andiamo a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus, la soluzione al centro Bentornati in studio, pronti per affrontare adesso l'informazione che arriva dalla regione Campania ma ovviamente con un'attenzione particolare su Caserta e la sua provincia ma cominciamo subito a vedere i fatti che arrivano proprio da Napoli e vediamo che si parla della cronaca visto che ieri in visita a Napoli è arrivato Zingaretti ma ci sono stati immediati scontri tra polizia e disoccupati prima dell'incontro, 4 fririti e 6 contusi tensioni infatti tra i manifestanti del comitato 7 novembre e agenti prima dell'arrivo del segretario PD al Teatro San Nazaro e questi sono stati gli scontri per l'arrivo del leader del PD Nicola Zingaretti e per l'apertura della campagna elettorale delle europee almeno 4 persone ferite di cui 3 manifestanti che sarebbero stati trasportati in ospedale 6 contusi tra manifestanti e agenti colpito al polso anche il fotografo di Repubblica promuovere la manifestazione in movimento 7 novembre sigla che più volte in questi anni è scesa in piazza per chiedere lavoro e per protestare contro il governatore della regione Campania ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano sempre da questo quotidiano sia Repubblica Online e andiamo a vedere una nuova polemica per quanto riguarda il mondo sportivo Napoli-Cagliari caro prezzi per le curve 30 euro ed è polemica sui social e infatti per molti tifosi è la risposta del club alla contestazione Ultras la notizia ha fatto molto rumore il Napoli ha messo in vendita i biglietti per la gara di domenica sera contro il Cagliari al San Paolo e i prezzi delle curve non sono assolutamente passati inosservati infatti un tagliano costa 30 euro più del doppio rispetto al match contro l'Atalanta il prezzo era di 14 euro l'ultimo che si è giocato a fuori grotta la scelta ha fatto discutere i tifosi sui social intanto la sfida con il Cagliari del resto non giustifica la politica del club gli azzurri hanno già conquistato matematicamente la qualificazione alla Champions League sono ad un passo dal blindare il secondo posto per molti è una sorta di risposta indiretta la contestazione esplosa nella notte tra sabato e domenica con il Maxi Striscione esposto a piazza Plebiscito il clima negativo poi si è ripetuto pure a Frosinone con il rifiuto della maglia lanciata da José Caliglion all'indirizzo del settore ospiti dopo il 2 a 0 rifilato alla squadra di Baroni e ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano proprio da questa attestata online hack.gov a Napoli giovani talenti dal mondo per ridisegnare la pubblica amministrazione insomma buone notizie per Smart City efficienza energetica salute e sicurezza tutela delle opere d'arte servizi pubblici e digitali e fact-fucking sono sono alcune delle sfide che attendono infatti gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per hack.gov a riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni tecnologicamente all'avanguardia in grado di innovare la pubblica amministrazione Saragi in collaborazione con la regione Campania e l'Università di Napoli Federico II e con il patrocinio di Agit tutto si svolgerà presso l'Apple Developer Academy di Napoli luogo simbolo dell'innovazione in Europa all'interno del nuovo campus dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio appunto a Napoli e ancora continuiamo a vedere infatti in primo piano vediamo quelli che arrivano dal quotidiano online il mattino e andiamo a vedere questa notizia che abbiamo già annunciato poco fa dal mattino nella versione cartacea ossia la maestra non mi piace a dieci anni tenta di uccidersi mamma ho dimenticato il quaderno a casa vado a prenderlo e torno poi il tonfo e il buio alle 8 e 15 di ieri il tempo si è tragicamente fermato per tutti a Torre dei Mussi zona di coltivazione in serra ai confini tra Battipaia e Deboli il piccolo Fabio ovviamente un nome di fantasia è caduto da 10 metri di altezza si è lanciato da un terrazzo non doveva andare a prendere nessun quaderno era soltanto una scusa per mettere in atto il suo piano a dieci anni tra qualche mese ne compirà 11 aveva pianificato il proprio suicidio come scritto in un biglietto poi ritrovato dai carabinieri sul tavolo della cucina ma non ci è riuscito non è stato sufficiente sgattaiolare in mansarda il punto più alto del vecchio casolare ristrutturato dove viveva con la mamma e la nonna e da lì lanciarsi nel vuoto per togliersi la vita un angelo probabilmente passava da quelle parti in quel momento e ha deciso di salvarlo forse era il suo papà morto per infarto 4 anni prima il piccolo è volato da un'altezza che secondo gli inquirenti potrebbe essere paragonato a quella di un secondo piano ora in gravi condizioni ma vivo ha riportato fratture un po' avunque gambe, bacino, costole e lo schiacciamento di un polmone ed è proprio questo ciò che ora preoccupa di più i sanitari del Santo Buono di Napoli dove è stato trasferito in eliambulanza e la preoccupazione più grande a parte quella della sua salute fisica è quella mentale che ovviamente ha portato a questa situazione che cosa è accaduto nella mente di questo bambino solamente dopo averne curato le ferite del corpo si potrà effettivamente verificare quali sono quelle dell'anima e ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano sempre dal mattino e si parla ancora di cronaca Napoli lo street food senza regole a sedia alle botteghe storiche e infatti i bar sfogliatelle a San Gregorio Armeno a San Biagio dei Librai si fanno largo le frigitorie e in via San Sebastiano spariscono i negozi di musica pensate un po' per fare spazio ai baretti mentre Napoli cambia volto sotto l'onda d'urto di un turismo mordi e fuggi il comune prova a correre ai ripari e nei prossimi giorni avvierà una serie di tavoli di confronto con associazioni di categoria cittadini e commercianti propedeutici all'approvazione della delibera di giunta con la quale si incentiveranno le aperture di nuovi regozzi però nel rispetto della tradizione napoletana e si salvaguarderanno quelle già esistenti insomma una rivoluzione in termini che ha trasformato il volto di Napoli da tradizionalmente gioiosa località frequentata dalle discipline più innovative ma soprattutto più classiche che comunque adesso sembrano via via a scomparire e ovviamente è necessario correre ai ripari perché altrimenti si andrà sempre più verso quel commercio mordi e fuggi che rappresenta esclusivamente non qualcosa che rimarrà nel tempo e quindi di tradizionale ma qualcosa che diventa sempre più evanescente e una meteoro a ciel sereno e ancora vediamo Napoli bella sporca e insicura questo è il dossier scritto purtroppo dai turisti che arrivano a Napoli restano estasiati di fronte alle bellezze della città le cercano le vivono se ne innamorano questa premessa necessaria per comprendere il seguito della vicenda che state per leggere e infatti racconteremo di un libro bianco messo insieme dalla Federal Berghie nel quale sono raccolti tutti i suggerimenti ma anche le preoccupazioni e anche le critiche presentate alla reception degli ospiti questo non significa che i turisti sono scontenti della città dettaglio che va chiarito a beneficio dei paladini di Napoli che partono lancia e resta quando pensano che qualcuno ne parla male ma generalmente si fermano solo alla lettura del titolo insomma in bene o nel male si parla di Napoli e ovviamente in questo modo di comunicare a Federal Berghie quelli che sono i pregi e i difetti rappresentano comunque un trampolino di lancio per poter migliorare delle situazioni che ovviamente adesso presentano delle criticità ed ancora vediamo tramite il mattino sempre i buchi neri del reddito di cittadinanza ecco i primi abusivi a Secondigliano e infatti è un bravo muratore a Nero lavora con un architetto gli passa una ventina di lavori ad opera chiusa all'anno prende il reddito di cittadinanza ancora a Nero in uno scasso e prende 250 euro a settimana a moglie non ha figli vive in un alloggio popolare e ha preso 900 euro insomma la denuncia arriva via Facebook e a farla non è uno qualsiasi ma Domenico Lopresto che gestisce un caffo a Secondigliano e rappresenta l'unione degli inquilini infatti dice il mese scorso aveva spiegato qui arrivano tanti lavoratori in Nero tanti ambulanti che hanno banchi dei mercatini nella zona tutti presentano la richiesta del reddito hanno le carte in regola almeno formalmente avranno i soldi insomma una previsione facile da centrare adesso giorno dopo giorno il sindacalista dalla sua pagina social cita infatti una serie di casi casi che comunque porteranno a parlare ancora una volta del reddito di cittadinanza che molti scontenti ha già fatto ma tanti altri sembra renderli sempre più contenti e ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano ci spostiamo su Caserta News e passiamo alla cronaca da Maddaloni svelato il piano per rapire le figlie di una commerciante il maresciallo dei carabinieri sentito a processo in guai alla banda di usurai infatti vediamo di cosa si tratta volevano addirittura rapire le figlie della vittima di usura pur di farsi restituire i soldi prestati a strozzo e questa la circostanza raccontata da un ufficiale dei carabinieri sentito in aula nel processo a carico di Tommaso Giglio e Costanza Orso titolari di una gioielleria di Maddaloni Lorenzo Vinciguerra commerciante Luigi Marciano e Giuseppe Fedene nel corso dell'udienza celebrata dinanzi al collegio presieduto dal giudice Roberto Donatiello l'ufficiale ha riaperto le indagini il ripercorso le indagini svolte raccontando il clima di terrore vissuto dalla donna titolare di una ricevitoria a Maddaloni e finita nella morsa di strozzini tra i particolari svelati in aula è emerso anche un piano da parte degli usurai intercettati per rapire le figlie della commerciante fuori scuola o di bruciare l'auto della vittima costituitasi e Gianluca Giordano Piano che ha visto anche una fase operativa con peninamenti ed appostamenti all'esterno dell'istituto scolastico frequentato appunto dalle due ragazze insomma una vicenda che non lascia nulla a caso e che soprattutto ha creato brutte situazioni soprattutto per questa donna e la sua famiglia adesso a parlare appunto quest'uomo che sta rivelando quanto in realtà compiuto alle sue spalle ancora vediamo da Casa Pesena a pasticceri di Zagaria spunta adesso un omicidio dietro le dichiarazioni del pentito i difensori di Fontana sottolineano al riesame il rancore di Michele Barone è inattendibile e infatti vediamo proprio così il pentito Michele Barone lo avrebbe tirato in ballo per vecchi rancori tra le loro famiglie legati ad un omicidio negli anni 80 questa è la tesi sostenuta da Pasquale Fontana a 51 anni di Casa Pesena per il quale si è celebrata urgenza al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto è ritenuto dagli organi inquirenti vicino a Capoclan Michele Zagaria e ne avrebbe favorito la latitanza e ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano ancora una volta si parla di cronaca questa volta doppio colpo nelle scuole potrebbe essere stata la stessa banda portati via computer soldi contanti ed una telecamera tanti danni agli istituti e infatti vediamo che a Caserta doppio colpo in due scuole l'idea è che ad agire possa essere stata la stessa banda di ladri la scoperta dei furti messi a segno alla scuola elementare Giannone di Via Roma l'ex Lombardo Radice e dalla succursale dell'istituto d'arte nell'ex area San Goven è stata infatti dal personale amministrativo su entrambi i casi indagano i carabinieri di Caserta nella scuola elementare in pieno centro del capoluogo i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati all'interno impossessandosi dei sei computer dell'aula di informatica i soldi delle macchinette danno oltretutto danneggiato buona parte delle porte cercando altra merce da rubare ed ancora passiamo alle altre pagine dei quotidiani locali da Caserta prima pagina shopping con i soldi falsi al Campania arrestati dai carabinieri è ancora una volta cronaca in primo piano nella serata di domenica infatti i carabinieri della sezione operativa del comando compagnia di Marcianise hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione e spendita di banconote false Gennaro Daniele 40 anni e Salvatore Davundo 41 entrambi di Napoli due sono stati bloccati mentre si allontanavano da due negozi ubicati all'interno del centro commerciale Campania dove avevano acquistato degli indumenti pagandoli però con banconote false insomma ancora una volta prestiamo attenzione proprio alle banconote che sembrano essere il mezzo più scorrevole per far passare la delinquenza e ancora vediamo sempre da Caserta prima pagina la visita ieri a Caserta del governatore della Campania De Luca lo tsunami politico di De Luca infatti non lo ferma neanche la pioggia Pippe Policlinico cambieranno e cambieranno e cammineranno a tutta forza così titola appunto questa mattina questo quotidiano vediamo nell'immagine il ritratto De Luca il sindaco della città Marino e vediamo ancora eccoci qua Carlo Marino sotto la pioggia sembrava Putin quando stava portando la corona di alloro e venne a piovere a dirotto dal PIP tutto si è spostato al comune con conferenza stampa grande iniziativo e grande successo insomma una visita che comunque è stata caratterizzata da una pioggia imperiosa e soprattutto però ha permesso al governatore della Campania di vedere questa zona in ricrescita in forte rilancio e per quanto riguarda le notizie di questa mattina della rassegna stampa è tutto ovviamente non è tutto per informazioni da Teleprima che continua nelle prossime edizioni sia con le notizie flash sia con ITG e per quanto mi riguarda innanzitutto vi ringrazio per essere stati con me questa mattina vi ringrazio per aver scelto Teleprima ringrazio Tecnocampus che come sempre ci offre la possibilità di parlarvi di informazione e soprattutto commentarla e criticarla e nello stesso tempo vi continuo a invitare a seguire i programmi di Teleprima e vi do appuntamento alla prossima edizione della rassegna stampa e soprattutto vi auguro una meravigliosa giornata e un buon primo maggio a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti